C'è una sfida di Caroc in corso ad Arezzo l'8 dicembre, la sera la Madame Adorè di Arezzo Ci sarà l'ultima gara eliminatoria e il 22 la finalissima e il grammattatore di questa gara di karaoke è Giuseppe Brantini Esatto, è il mio hobby per il frito adesso fare questo Effettivamente hanno partecipato diversi cantanti e diversi anche veramente bravi Soprattutto le donne, perché sono le donne nei maggiori concorrenti migliori E niente, abbiamo fatto già due serate, quindi già sei suonate in finale E l'8 venerdì prossimo ci sarà l'ultima sfida per i tre ultimi tre posti che saranno poi assegnati Per fare la finale il 22 di dicembre, quindi prima di Natale e quindi regge il vincitore di questa manifestazione Il migliore cantatore amatoriale di Arezzo Esatto Quindi appuntamento venerdì sera per chi vuole venire a assistere a una serata piacevole Esatto, andiamo a 3 del castro alle ore 20-30 iniziamo con una cena Dopodiché il vincitore della serata avrà la cena gratis E poi parteciperà il 22 alla serata finale dove saranno assegnati dei preghi Un pezzo abbastanza grande Sotto Bale Grazie a tutti.